agriturismo i tramonti una perla unica incastonata in un parco naturale ad un passo dalla riviera un ambiente curato in ogni dettaglio accogliente ed elegante perfetto per cerimonie indimenticabile per il tuo matrimonio per solleticare il gusto c'è la cucina tradizionale realizzata tutta con prodotti genuini direttamente coltivati e preparati secondo le ricette di una volta ma con particolare attenzione alle novità come la carne di struzzo la più magra al mondo da gustare cucinata con una cura speciale solo ai tramonti a 10 minuti dal casello di Cattolica direzione Tavuglia Saludeccio